Chiamatelo come volete, governo di minoranza, di scopo, non mi interessa. Questo governo lo proporrò in direzione e poi al capo dello Stato. Con queste parole Pierluigi Bersani difende il suo governo del cambiamento. Il segretario democratico ha infatti dichiarato di aver pronti otto punti da portare in Parlamento, chiedendo la fiducia a chi ci starà. Una linea che esclude il governissimo di larghe intese. Il leader del PD a Montecitorio ha una larga maggioranza, grazie al premio assegnato dal Porcellum, ma non è autosufficiente in Senato. Così rilancia aprendo una discussione sull'ipotesi di offrire le alte cariche dello Stato a Movimento 5 Stelle e PDL. Bersani si dice pronto a prendersi le sue responsabilità, una parola che per lui significa cambiamento e non interessi personali come per il Cavaliere, sottolineando poi che il cambiamento non è un'esclusiva del Movimento 5 Stelle. Attesa quindi la presentazione del nuovo governo, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Alessandra Moretti, portavoce di Pierluigi Bersani, che dichiara Se ci venisse chiesto se la direzione individuasse un'altra figura di garanzia per dialogare con il Movimento 5 Stelle, tutti dovremmo pancia a terra lavorare per questo. Il primo a tirarsi indietro sarebbe Bersani, pronta a fare il capitano o il mozzo senza abbandonare la nave.